Enciclopedia Stazioni, Episodio 2. Cantù Cermenate. La stazione di Cantù Cermenate, serve ai comuni di Cantù di 40.000 abitanti, e di Cermenate con oltre 9.000 abitanti, entrambi in provincia di Como. La stazione ferroviaria è posta sulla strada provinciale 34 nella frazione di Asnago, a Cantù. La stazione di Cantù Cermenate è una fermata ferroviaria, situata sulla linea Milano-Chiasso. Non si sa la precisa apertura della stazione, ma siamo certi che è stata aperta qualche anno dopo l'apertura della linea, cioè nel 1849. La stazione tra il 1911 e il 1934 era collegata anche con una linea troviaria. Precedentemente la stazione disponeva di 4 binari, 3 a servizio viaggetori e 1 tronco. Attualmente la stazione ha 3 binari, 2 di transito e 1 tronco, ma non più accessibile. Perché il binario è stato tagliato. Infatti, dal 6 febbraio 2011 Cantù Cermenate è diventata una fermata. Il fabbricato fu distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e poi ricostruito. La stazione disponeva dello scalomerci, ancora esistente ma abbandonato, e di moltissimi binari tronchi, oggi asfaltati. Da qualche anno lo spazio dello scalomerci è diventato il parcheggio della stazione ferroviaria. La fermata è raggiungibile da Cantù anche tramite il servizio autobus, Urbana 3 di Cantù. La fermata è servita dai treni suburbani S11, da Milano a Chiasso e da qualche treno mattutino diretto a Milano Centrale.